Poi ci sono le RSA per gli anziani che hanno sconfitto in tanti casi il Covid, ma in altri tanti casi hanno adesso problemi finanziari perché molti posti letto sono rimasti vuoti. Succede così che tre quarti di queste strutture stanno facendo ricorso in queste settimane alla Cassa Integrazione. Guido Maurino. Dalla prossima settimana RSA, strutture protette e case di riposo potranno gradualmente ricominciare con le visite dei parenti. Hanno avuto una grande mancanza affettiva e questo vale sia per i nostri ospiti, che abbiamo cercato di tamponare con chiamate, videochiamate, ma certo non è come vedere in presenza i propri figli, ma anche per gli stessi familiari. La residenza protetta della Fondazione Città di Senigallia è Covid-free da luglio, ma l'attenzione resta alta. Nonostante gli ospiti siano tutti vaccinati, quando escono per una visita a un ricovero ospedaliero, a rientro vengono messi in quarantena, separati dagli altri. Tutto questo ha ridotto i posti letto disponibili. Utilizzati in questo momento sono 46, potrebbero esserne utilizzati 59, ma in realtà considerate che proprio per garantire la sicurezza nella battaglia contro il Covid abbiamo delle bolle per evitare di portare con sé il Covid dentro la struttura. Le precauzioni anti-Covid spiegano solo una parte della questione. In tutta la regione la Cisla stima che le varie strutture abbiano il 20-30% dei letti vuoti e così moltissime RSA hanno dovuto far ricorso alla cassa integrazione Covid. Sono circa i tre quarti del totale, ovviamente una cassa che viene utilizzata a rotazione, che viene utilizzata ovviamente a seconda anche della capienza e copertura dei posti letto all'interno delle singole strutture. In piena emergenza pandemica, a marzo, in alcune strutture era dovuto intervenire l'esercito perché mancavano infermieri e os. Oggi invece la maggior parte dei 3.500 addetti è in cassa integrazione a rotazione. Le famiglie infatti preferiscono tenere i loro cari a casa. Un po' perché chi ha perso il lavoro non può permettersi le rette e un po' anche per paura, nonostante oggi il virus sia quasi scomparso da queste strutture.